Ciao a tutti da Federico da Roma. Nuovo oldboxing di questo canale dedicato al subwoofer Qacoustics Q3060S. Ricordo a chi sta guardando questo video che la rubrica oldboxing ha l'obiettivo di effettuare l'unboxing di prodotti usati o fuori produzione che sto usando o ho usato nel mio impianto audio video a beneficio di chi li stia cercando nel mondo dell'usato. Questo anche per segnalare che l'unboxing può leggermente differire da quello originale. Con questo terzo video completo l'unboxing e la breve descrizione di tutti i diffusori inclusi in uno dei cinema pack della serie 3000i della britannica Qacoustics, quello dedicato a sale audio video di piccole e medie dimensioni. Per chi fosse interessato a scoprire gli altri unboxing lascio in alto a destra il link al precedente video e in descrizione tutti i link dei precedenti unboxing. Il Q3060S è un subwoofer diverso dai tradizionali Q-botti in cassa chiusa che siamo soliti aggiungere al nostro home cinema. Di forma sottile ed allungata il Q3060S monta un driver da 20 centimetri con emissione laterale destra guardando il logo Qacoustics sul frontale. Questo lo rende più facile da nascondere agli occhi ma più difficile da collocare nel nostro ambiente a meno di avere visibili i cavi di alimentazione e di segnale. Il Q3060S è infatti un subwoofer attivo dotato di una sezione di amplificazione in classe D da 150 watt. Tutti i controlli come vedremo nell'unboxing sono nascosti dietro una placca di metallo magnetica a dire il vero poco utile se non adottando cavi molto sottili. Come scopriamo da un'altra sezione del sito Qacoustics il Q3060S ha anche il vantaggio di poter essere installato a muro mediante delle staffe dedicate. Un plus importante stando ad alcune teorie di psicoacustica che indicano l'importanza di spostare o di elevare il subwoofer dal solito pavimento per avere una migliore risposta sui bassi. Passando all'unboxing l'importante imballo del 3060S riporta la consueta stilizzazione del diffusore con la solita Union Jack in alto a destra e la patriottica scritta sul top disegnato ed ingegnerizzato nel Regno Unito. Aprendo l'imballo la scatola degli accessori include il manuale utente, i cavi di alimentazione e le punte coniche con l'annessa ferramenta per l'isolamento dello chassis dal pavimento. Contrariamente agli altri diffusori della serie 3000i il 3060S ha delle istruzioni che sembrano dedicate e non comuni ai restanti diffusori della serie. In realtà sfogliandolo c'è una guida sintetica alla disposizione e alla connessione di tutti i diffusori home theater. Viene indicata anche la filosofia sposata da Q Acoustics per estendere la serie 3000i al Dolby Atmos. Ai diffusori cosiddetti upward firing, ossia che letteralmente sparano l'audio verso il soffitto sfruttando le onde stazionarie, Q Acoustics preferisce i diffusori cosiddetti in ceiling, ossia da installare direttamente a soffitto. Parlerò di questi diffusori in un prossimo video. Nel frattempo solo un istante per dire che se vi sta piacendo questo video vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale per scoprire gli altri video attivando la campanellina per ricevere le notifiche. Proseguiamo con l'unboxing. Il libretto, come avevamo già visto sul sito della casa madre, ci informa della tecnologia di emissione del 3060, costruito con sistema a baffolo infinito. Questa tecnologia, sempre a cassa chiusa, si differenzia da un tradizionale sistema a sospensione pneumatica. In un sistema a sospensione pneumatica, dopo l'emissione del suono verso l'esterno, il woofer ritorna alla sua posizione pre-emissione non solo per effetto meccanico, ossia muovendosi sulle sue sospensioni, ma viene aiutato in questo movimento dall'aria in tenuta stagna contenuta nel cabinet, opportunamente sigillato. Quest'aria agisce da freno o molla nei confronti dell'emissione esterna dell'altoparlante, garantendo una forza di ritorno lineare aggiuntiva a quella meccanica dello stesso altoparlante. Questa tecnologia consente un'emissione più naturale del suono, meno soggetta a coloratura, dovuta a frequenze o armoniche spurie. In parole povere, il woofer emette esattamente quello che deve emettere. Di contro, l'altoparlante è meno efficiente e pertanto necessita di una maggiore potenza per poter emettere un suono. L'estensione in basso è inoltre minore a parità di cabinet. Quest'ultimo deve essere pertanto opportunamente ingegnerizzato, a partire dalla sua rigidità, per evitare risonanze interne. Deve inoltre contenere materiale assorbente al fine di aumentarne virtualmente il volume. Il baffle infinito è sempre un sistema a cassa chiusa, ma contrariamente alla sospensione pneumatica, l'aria all'interno non è a tenuta stagna. L'altoparlante non ha quindi l'aiuto dell'aria per il suo ritorno in posizione. Quest'ultimo è assicurato solo meccanicamente dalla sua sospensione. I vantaggi sono nella maggiore facilità di costruzione del cabinet che non richiede l'attenzione di quello a sospensione pneumatica. In tal modo, a parità di costo rispetto a un sistema a sospensione pneumatica, si può investire maggiormente sulla qualità del driver o sulla ingegnerizzazione della parte circuitistica. Per garantire il ritorno lineare del woofer alla sua posizione, il cabinet deve essere di maggiori dimensioni ed includere del materiale fonoassorbente per evitare risonanze interne. Per chi volesse approfondire la conoscenza delle tecnologie di costruzione dei diffusori più frequentemente adottate dai costruttori, lascio il link in alto a destra e in descrizione all'ottimo contributo del canale iFight. Fuori dall'imballaggio, il 3060S ha un design elegante, con gli angoli arrotondati che richiamano la linea dei diffusori da scaffale. Come già detto in precedenza, l'emissione è laterale sul fianco destro guardando frontalmente il subwoofer. Su questo lato compare solamente il logo Qacoustics, mentre sul retro troviamo la placca magnetica removibile che svela l'incavo con tutte le possibili connessioni. La leggenda dei comandi più angusti è replicata anche sopra l'incavo per una migliore visione. Dall'alto a basso sono presenti gli interruttori per l'autoaccensione e l'invertitore di fase, le connessioni single-ended con l'indicazione di quale connettore RCA utilizzare per l'ingresso in mono direttamente dal sinto amplificatore su uscita dedicata. La connessione di rete con spina A8, l'interruttore di accensione e il fusibile di protezione. Nella parte in alto sono invece presenti i controlli di volume e la frequenza di taglio del crossover. Tratteremo l'impostazione di questi parametri nei prossimi video. Uno sguardo infine alla parte più a contatto con il pavimento rivela gli slot dove montare le punte in dotazione che si vedono già montate nel video o dove agganciare la staffa per l'installazione a muro. Come avevo promesso nel primo video ho completato l'unboxing e la presentazione di tutto questo cinema pack della Qacoustics. Vado a dedicarmi ora alla sua installazione nella mia nuova sala d'ascolto e visione. Per ora è tutto, ciao e grazie da Federico da Roma.